Italia divisa fra i quasi 20 gradi della Sicilia e l'effetto raggelante della nebbia in Valpadana. Sono le previsioni del portale ilmeteo.it. Da ovest si avvicina una debole perturbazione atlantica che si farà sentire soprattutto tra Natale e Santo Stefano. Il 25 dicembre passerà dunque con l'Italia divisa fra i grigioni del nord, le piogge e le nevicate oltre i mille metri e il clima mite al centro-sud e le isole maggiori, con punte di 20 gradi in Sicilia e Calabria. La giornata di Santo Stefano vedrà condizioni di maltempo sul nord-est e ancora Lombardia con tanta neve sulle Alpi a mille metri. Pioggia rovescia al centro e poi in campagna verso il resto del sud, mentre sarà in agguato la nebbia sulla pianura padara occidentale. Quanto ai giorni successivi e fino a Capodanno, le correnti da nord tenderanno a lambire il sud e le regioni adriatiche con qualche pioggia, ma in generale il clima sarà rigido al nord con nebbia in Valpadana, più mite sulle regioni tirreniche e su Sicilia e Sardegna.